Noi vogliamo anche condividere se ha un messaggio particolare per quanto riguarda un canzone che è stato cantato dai studenti che hanno avuto una difficoltà in questa zona particolare che è stato colpito purtroppo da questo disastro della natura. Infatti il significato di quella canzone è che il titolo era uno è figo e un altro è quello che ci tengo. Quello che ci tengo intendevano proprio un ringraziamento per dare indietro a voi che hanno sopportato, hanno fatto un gran sopporto per questa difficoltà. Allora avendo questo po' di informazione indietro effettivamente se possiamo condividere uno o due messaggi soprattutto per i bambini che stanno andando avanti con coraggio. Ho ascoltato con grande attenzione e partecipazione la bellissima canzone che è stata eseguita dal coro della scuola della regione del nord e anche della prefettura di Ittawa. Era l'espressione del filo che costituisce un legame tra l'ordito, la base della stoffa e il ricamo che il filo compie sulla stoffa. Ci siamo sentiti come simboleggiati da questa canzone. Questi giovani sono il filo che possono poggiare sull'ordito della nostra solidarietà, del nostro appoggio, non in questa situazione difficile per loro che magari hanno perso familiari, hanno perso la casa e altri beni. La canzone ispira speranza e serenità per l'avvenire e quanto noi auguriamo nella nostra preghiera. Grazie.